è l'Italia che ha rimesso la punta davanti all'Australia occhio al Canada che anche ieri ha dato vita a un rush finale pazzesco per entrare in semifinale hanno preso un pesce quindi sono arrivati i terzi non è la posizione che la corsia che gli sarebbe toccata arrivando secondi ieri quindi sono accreditati di medaglia sono partiti 250 metri ci stanno facendo letteralmente sognare stanno prendendo vantaggio sull'Australia ormai è quasi mezza la marca di vantaggio sembra tutto lanciato per fare in modo che vada tutto veramente bene in modo esaltante tre uomini di vantaggio sull'Australia in questo momento vicino non si ferma qui aumenta ancora il numero di palate e ci siamo sono 44 in colpa in minuto quando l'Italia ha tre quarti in marca di vantaggio e si avvicinissimi verso un traguardo storico non ci riprendono più una medaglia strepitosa siamo uno sull'altro non ce la facevamo più emozione incredibile è l'Italia due colpi poi campioni del mondo 2015 Italia grandi 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 ci voleva si ci voleva ci voleva grandissi questi quattro ragazzi eccoli vicino Lodo Castaldo di Costanzo così in piedi braccia al cielo un liberatorio gara strepitosa pazzeschi di questi quattro ragazzi che hanno saputo esprimere al meglio tutte le loro potenzialità a suono di 39 colpi al minuto hanno fatto loro la selezione Lusi e poi quando hanno capito che ce n'era ancora hanno azzeccato gli ultimi 400 metri di gara veramente fenomenali fenomenali grandissimi l'abbraccio tra il capovoga e il numero due attenzione perché l'attarsi in due in barca in un quattro senza che stanno subito gli altri due adesso possono anche cadere chi se ne frega questi ragazzi non sono fortissimi sono strepitosi a parte che vabbè vicino fa 554 ma non sono enormi il carattere che hanno dimostrato l'hanno dimostrato durante l'anno tre quarti di barca è napoletana Matteo Lodo numero due è di Sabadia questi hanno la cazzimma sì è di Sabadia la cazzimma la cazzimma la cazzimma